Buonasera Buonasera Ciao ragazzi buonanotte in questo video Sono qua con mia cugina Giada Ciao E' nata un giorno dopo di me E quindi si sente frega adesso Mi sento figo perchè io sono nato prima Teoricamente dovevo nascere il 31 ottobre Ossia 6 giorni prima di te No 7 Se mi state venendo senza occhiali E perchè come solente è contatto E non ho gli occhiali Oggi siamo qui Per fare un video divertente Se non fai un video divertente c'è Non sei nessuno Ah si? A me fa rire già solo la sua faccia Una risata per me e per la sua faccia Dai su Comunque se volete fare delle domande A mia cugina la so per conoscerla E scrivetemi Andateci piano Praticamente adesso Allora in realtà stavamo parlando Mi guarda Cioè non mi guarda Non mi guarda perchè ha gli occhi solti E io ho detto Ma stai a parlare con me e con quello dietro di me E lei mi ha tirato un cazzotto Questa viene sulle con te No E che è? Andiamo avanti Spero che tu possa vedere questo video amore mio Ok Le persone fanno 3.000 profili falsi Non avete un cazzo da fare nella vostra vita Io amore appena riesco a tenere il mio Cioè tipo è caduto questo Che è tipo Cos'è questo? Non so cos'è Molte persone vorrebbero scappare di casa no? Giusto E quindi una moto è scappare da una finestra E io ci ho sempre pensato Ho le sbarre Un armadio giusto? Io ho un armadio Bravo Io ho un armadio Ad entrare in una camera dovrebbe sentirsi bene Non avere paura di niente Poi si trova due foto enormi E li appese Che sono pure un mostro in questa qui Sembra che ce la lasciamo perdere Ma che è? Oddio è cascato La televisione si muove Prova di cascare in coccia ma veramente E guardate poi che cosa ho in coccia tutte le notti Che mi fissa Commentate con hashtag gli sfoghi di mia cugina Adesso diamo la fotocamera a mia cugina perchè vuole registrare lei Non l'ho mai detto Vedete questo...coso E' un ventilatore E' basso? Balla Stopa Buonasera Proprio con i beccucci in testa Ma tu non sei mai al posto per il video Grazie Prego Mi faccio mettere i mici preparo per fare un video Cambiamo persona Adesso andiamo da... Adesso andiamo da una persona molto divertente Ora... C'avevo mai filmato Ragazzi prima di finire il video voglio fare uno scherzo a mia cugina E ho preso questa borraccia E adesso è l'arangio Ah già Che sta a fare? Mi manca l'aria Perché ero?